Di una fuga, direi. Tu che dici, Davide? È un viaggio, è un viaggio. È un viaggio o una fuga? Tutte e due. Tutte e due, va bene. Voi prendete pure tutte quante le vostre conclusioni sentendo il testo. C'è un viaggio, è un viaggio, è un viaggio. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti